Ciao a tutti cari ragazzi e cari signori, e benvenuti in questo nuovissimo mega video. 1, Fabio. Canale 21, che è uguale a quello che abbiamo fatto nel video precedente, è il canale televisivo della Roma. Se il TGS ritornasse a quello del 2013, sarebbe forse perfetto. Riusciremo a rivedere Boeing più o uno? Lo scopriremo prossimamente. Premium Crime è stato un canale televisivo a pagamento edito da Mediaset, nato il 1 luglio 2011 e chiuso a gennaio 2022. Se Top Crime, T27, TGS, Rai News 24 e ieri schiudessero, succederebbe una super duper e iper ultra mega catastrofe. Meglio lasciar stare. 2, Christian. Riusciremo a vedere il nuovo timer del, il programma torna tra pochi secondi. Lo scopriremo prossimamente. 3, Ciro. Se la sigla di Reazione a Catena avesse la sigla di Top Year? No, perché la Rai non la farà mai. E 4, Letizia. Sean, Vita da Pecora è una serie televisiva britannica del 2007. La sigla è bellissima. La serie racconta della vita di una piccola fattoria della placida campagna inglese, vivacizzata dall'intraprendenza della pecora Sean, che coinvolge le altre pecore e gli animali da cortile sempre in nuove avventure. Con la frustrazione e talvolta la complicità, del cane da pastore Bigzer, che dovrebbe mantenere l'ordine e invece spesso si fa coinvolgere dalle idee di Sean, è la totale inconsapevolezza dell'allevatore, che non ha alcuna idea di quanto accada nella sua fattoria, anche perché una fortissima miopia spesso gli confonde la percezione della realtà. Fra gli altri personaggi ricorrenti vi sono, i cattivi maiali che cercano di intromettersi negli eventi, allo scopo di guadagnare qualcosa di cui ingozzarsi, ma anche di disturbare la vita della fattoria. Il postino, vittima del cane Bigzer che lo rincorre abbaiando. Un toro gigantesco, protagonista di un episodio, ma anche guest star in altre puntate. Una famiglia di extraterrestri, le galline oppure gli umani. Se Boeing, Boeing Plus e Cartonito trasmettessero le gare di Formula 1, MotoGP e Super Big, e se la sigla di TV Autosport avesse la clip di Alvin del 2015? No, perché Mediaset Sky non le faranno mai. E con il mega video è tutto. Ciao a tutti cari ragazzi e cari signori e alla prossima.